510 cavalli sotto un chilometrico cofano da coupé e un posto guida rialzato da SUV, per guardare tutti dall'alto in basso e dominare la strada. La formula vincente si chiama X4M Competition, se l'abbiamo alle spalle si riconosce per la griglia anteriore di grandi dimensioni, con cromature e dettagli in nero lucido e paraurti con prese d'aria maggiorate che sembrano fagocitare l'asfalto. Completano lo stile supercar, l'impianto di scarico con cromature scure, cerchi da 20 pollici, a richiesta addirittura 21 e specchietti retrovisori sportivi per migliorare l'aerodinamica alle alte velocità. Il cuore ha un potentissimo 6 cilindri da 3 litri, capace di esprimere 510 cavalli ed una coppia massima di 650 Nm. Le prestazioni sono molto vicine a quella di una supercar, perché lo scatto da 0 a 100 è coperto in soli 3,8 secondi, mentre la velocità massima autolimitata a 250 può essere sbloccata fino a 285 orari, grazie al pacchetto aggiuntivo M Drivers Package. Non mancano ovviamente le modalità di guida da scegliere a seconda dello stile di guida, compresa quella per il drifting e le impostazioni specifiche per sospensioni e sterso, che assicurano il giusto feeling sportivo tra le curve. Alta, affilata come una coupè e dannatamente cattiva su strada.